Il mistero dell'omicidio cammino. Oh, attento! Va bene che siete lati tanti e vi dovete nascondere, ma almeno quando attraversate la strada fatevi vedere però. No. Tonino, ma che ci uccidi? Ti serviamo, vivi! Se tentate di chiamare la polizia siete morti. Se il Padre Santissimo muore, siete morti. E se sopravvive però gli rimane qualche strascio? Morti! Vorrei escludere del tutto il coso della testa quando uno sbatte. Il trauma. Il trauma cranico. Qua finisce male. E se questo di persona sono cent'anni di galera? Guarda chi c'è! No! Aiutami! Vai, 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 vai! Lei è una brava poliziotta. Il suo punto debole è stato sempre il suo fidanzato. E ce l'occhio! E ce l'occhio! Potuto. Ma basta! Nelle serie un killer prima di ammazzare a uno si interroga se ci saranno delle conseguenze. Se fosse per voi veramente le stagioni durerebbero una puntata. Netflix potrebbe chiudere. E che tuo fratello non riesco a perdonare. Quei due potrebbero insospettirsi. Ma perché dovrebbero insospettirsi? Mezzogiorno di dopodomani avrete i vostri piccoli. Sta soffrendo tanto. Veramente. Le corna non vanno in prescrizione. Le corna sono retroattive. Credetemi, è un piano perfetto. Più facile a farsi che a dirsi. Sparaci, Tonero. lenza. Grazie a tutti.